Sì, sì. Se poi vi interessa, dello stesso concetto c'è anche la versione un pochino più lunga, che comincia ora. Non mette benissimo con questi play, come tutti gli anni purtroppo, o come troppo spesso in ogni caso, però non mette benissimo. Quattro partite in croce, belle due infortuni abbastanza importanti, più che altro perché potrebbero toglierci due potenziali protagonisti come Zion e soprattutto Jimmy Butler. Ci aveva ragione Pianigiani. Pianigiani diceva che l'intensità non ha un interruttore. Diceva anche che sarà una partita difficile contro l'ultima in classifica, che si vincerà soprattutto in difesa e controllo dei rimbarsi e che servirà un extra sforzo da parte di tutti, però soprattutto diceva che l'intensità non ha un interruttore. E di conseguenza te non puoi pensare di giocare una partita, due partite, tre partite, una settimana, un mese, metà stagione, una stagione regolare intera in ciabatte, in pantofole, sciallo, tranquillo. E poi quando cominciano i play-off, quando cominciano le partite serie, momenti importanti, pigi l'interruttore e automaticamente vai a mille. Non funziona così. Bisogna che tu sia sempre concentrato, settato, bisogna che tu dia sempre il massimo perché se no ci rimani male, perché la testa non è pronta, perché il fisico non è pronto. E se pensi di fare in quel modo ti esponi anche a tutta una serie di rischi, tra cui gli infortuni. Poi lui teneva anche McIntyre sopra di 40 e non faceva giocare giovani, ma quello perché c'è il tomtibodo che ti risale. Quello è un effetto collaterale, ti piglia un po' la mano. In ogni caso, al momento in cui io sto registrando, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, definitive, ma la sensazione non è delle migliori. Bastato guardare anche subito in presa diretta l'espressione e la reazione di Spellstra prima e di Pat Riley. Poi c'era nell'area quest'idea che fosse in effetti un infortunio non di pochissimo conto. Poi vediamo, ancora non è detta. È stato il classico infortunio Durent, se vogliamo, cioè con la gente che ti casca sulle gambe, che è una cosa che a Durent capita molto di frequente, anche perché da un punto di vista probabilistico, avendoci delle gambe che tra i piedi e l'anca cambia prefisso due o tre volte, è più probabile che ti possa succedere. Jimmy Butler non è esattamente in quel modo lì, è stato ancora più sfigato. In realtà l'infortunio è capitato subito, alla fine di primo quarto, e poi Jimmy Butler è rientrato. Non è che è rientrato, è stato anche in campo parecchio, perché alla fine ha giocato quasi 40 minuti, quindi la sua partita l'ha fatta. E vi dirò, sì, lo vedevi che non era Jimmy Butler, non c'è niente da fare, però alla fine è riuscito comunque, e in quanto fenomeno, è riuscito comunque a dare il suo contributo. Poi Jimmy Butler ha questa caratteristica importante, che non so come sia possibile, che al gioco fermo, te tu lo vedi che soppia, che lo trai, non c'è quelli pronti con la barella, che dici che si fa, si entra, si viene a raccattarlo, poi invece fisti all'arbitro per ricominciare il gioco, Jimmy Butler, improvvisamente Jimmy Butler. Ti sei accorto che non è, però Jimmy Butler funziona così, non lo so perché. Il fatto è che ci sono anche dei precedenti, l'anno scorso si è fatto male, sempre Jimmy Butler, sempre ai playoff, contro i Knicks, in quel caso Fuart, che gli franò sulla caviglia, e anche in quel caso ritornò a giocare, stessa partita, poi playoff, c'è anche però chi dice che senza quell'infortunio alla caviglia, oggi magari Denver non sarebbe campione in carica. Io non so troppo d'accordo, però è anche vero che non potremo mai avere il senno di poi, no? È una cosa che impatta anche perché Miami oggi, stanotte, ha finito la partita Quaywood-Eismith in quintetto, che i più attenti e anziani di voi ricorderanno qualche stagione fa aver firmato con la Vanoli di Cremona, che per carità anche Ben Wallace giocò a Reggio Calabria, però di Ben Wallace ce n'è uno, e tutti i latri non 31, cioè se c'è una squadra 1 in tutta l'NBA che può trovare delle risorse inaspettate, quella è Miami, però se perdi Jimmy Butler, perdi Jimmy Butler. Questo per dire che Boston si sfrega le mani, cioè rispondendo alla domanda del titolo di questo video, ha messo e non concesso che Miami riesca a battere Chicago, ma se poi anche non la batte, poco cambia ai fini di Boston, Boston si sfrega le mani. Io comunque vorrei i Bulls se fossi nei Celtics, piuttosto che Miami, pur col dubbio Jimmy Butler, pur eventualmente senza Jimmy Butler, però in ogni caso si sfrega le mani. E quella che io avevo identificato al suo tempo come la serie potenzialmente più interessante del primo turno, un eventuale Boston Celtics-Miami Heat, ora perde uno dei motivi di principale interesse. Anche perché, io me la ricordo questa grafica di SPN, erano i numeri di gara 1 della finale di conference dell'anno scorso, tra Miami e Boston, e Jimmy Butler, oltre a essere Jimmy Butler, e quindi a darti quello che ti dà Jimmy Butler in attacco, ma non solo perché stanotte, esattamente come all'epoca nella partita con i Knicks, il motivo per cui Jimmy Butler è rimasto in campo, nonostante l'infortunio, non è tanto l'attacco, non è tanto il rendimento, e quanto il fatto di non fidarsi di come avrebbero potuto reagire i compagni sapendo di aver perso il loro miglior giocatore. Cioè, meglio Jimmy Butler è fermo, zoppo in un angolo, che poi tasera non era proprio fermissimo, rispetto a testare la condizione dei nervi della squadra a una notizia di questo tipo. Comunque, dicevo, oltre a essere Jimmy Butler, è anche potenzialmente, lo era ai tempi, ma secondo me lo è anche quest'anno, potenzialmente la migliore opzione che Miami ha da poter mettere su Jason Tatum. Quindi, oltre al danno della perdita di Butler, la beffa in un eventuale confronto uno contro uno e la necessità di marcare Tatum. Mentre, per quel che riguarda la competitività dell'altro ipotetico primo turno, non lo so, sinceramente, io penso che di hobby in grado di quarantelleggiare su base sistematica, sera dopo sera, partita dopo partita, ai play-off, penso di non vederne più. Una sì, cioè, capito, anche, ma tutte le sere, nonostante io, tricologicamente, grandissimo fan, però, tanto più che i Knicks, per completare il quadretto dei play-off e per capire effettivamente l'impatto che questo importunio potrebbe aver avuto sui play-off, e ora si ritrovano a giocare contro Philadelphia. Philadelphia che ha vinto di uno, tra l'altro, sul finale proprio di partita, chi lo sa come sarebbe andata con un Jimmy Butler al top della condizione. Comunque, Philadelphia ha vinto e ora i Knicks si ritrovano a dover giocare contro una squadra che sì, ha del potenziale, che sì, ha ancora l'attuale, per poco, MVP in carica al roster, ma che stanotte ha avuto tra i giocatori più impattanti sulla partita Kyle Lauri e soprattutto Nikola Batum, due che io credo andrebbero in pensione anche con la Fornero. Ora c'ho da fare conti per bene dell'Inps e dei contributi, prima.